Importanti modifiche allo statuto della Seris, la società in house del Comune di Imperia che si occupa di ristorazione scolastica. L'amministrazione, guidata dal sindaco Claudio Scaiola, le presenterà nel corso del prossimo Consiglio Comunale. Ci sarà anzitutto una proroga della società fino al 31 dicembre 2050, a fronte della scadenza prevista per la fine dell'anno in corso. La modifica statutaria prevede poi la possibilità di ingresso nella società di altri enti pubblici, così che la Seris potrà gestire le mienze scolastiche anche di altri comuni. Inoltre, la partecipata potrà occuparsi della gestione degli impianti sportivi e delle pulizie degli stabili comunali. Cambiamenti anche sul fronte della governance. Viene prevista infatti la possibilità di optare tra un amministratore unico o un consiglio di amministrazione con l'obbligo di rispettare le pari opportunità nel caso della seconda opzione. È stata istituita in più la figura del direttore generale. Il lavoro svolto è stato fatto nell'ottica di adeguare le norme a quelle oggi in vigore e permettere alla società di avere gli strumenti adeguati per operare al meglio, ha commentato l'assessore alle società partecipate Fabrizia Giribaldi.